Duniziani, vedete questa skin bellissima? Io oggi sono con la skin di Fatebelflauer, cioè guardate qua quanto, quanti colori, troppi colori. Duniziani, se vedete, praticamente, io sarei disglazato, vedi? Vedete che sotto c'è scritto CURRENTLY DISGUISED AS FATEBELFLAUR. Ecco, praticamente, sono disglazato, quindi mi sono trasformato in Fatebelflaure e oggi andremo a fare lo scherzo a Gabrile06, che è il mio amico Gabri, voi che tutti conoscete perché ormai fa video, dai, cioè spesso fa video con me, no? E adesso cercheremo di dargli fastidio con l'account di Fede, cercheremo di comportarci in modo strano, eh? In modo strano con proprio il comportamento di Fede, però in modo strano, capito? Duniziani, che poi lui possa dire, ma che cosa sta facendo sta qua, c'è, impazzita? Tipo, ah, cosa sto facendo? Adesso, guardati, adesso inizio a fare questo. Oh, oh no, mi sono rotto, eh, però, devo dire, devo dire che non mi sta molto calcolando, forse anche perché Duniziani vi posso spiegare. Allora, praticamente, ok, ok, no, ma praticamente vi posso spiegare, perché Fede entra spesso nella casa di Gabri, stessa cosa a Gabri. Quindi, cioè, capite, è una cosa molto strana, tutto un rapporto un po', non lo so, si può dire simbiotico fra loro due, no? Quasi, quasi che fa male, perché, no, c'è chiaramente, poi dopo, vabbè, stanno, vabbè, no, basta, scherzo, ovviamente, Duniziani non andate a pensare male, perché sennò poi dopo pensate che magari davvero loro due stanno insieme? Chi lo può sapere? Magari può essere che stanno insieme? Tipo, se io adesso mi avvicino con Fede, tutto tranquillo, tranquillo, per dargli un bacetto, vediamo un attimo come reagisce Gabri. Adesso, dammi un bacetto, dammi un bacetto, e Gabri, Gabri sembra molto, ah, guarda, guarda, porca, Duniziani si sono baciati! No, vabbè, si sono baciati, ho il titolo, ho il titolo, Duniziani. Fede, Gabri si sono baciati in sto video, vedete che questo è un segno dell'amore che c'è fra loro due? E' chiaro, no? Però, cioè, vediamo un attimo, adesso se io inizio a picchiarlo, probabilmente dirà, ah, ma che cosa stai facendo, Fede? Tanti bacini, tanti bacini, Duniziani, devo dire, Gabri, ma cosa stai dicendo? Perché sembra proprio fuori di testa questo Gabrile solo 06, eh, perché veramente, cioè, ovviamente è Duniz02 che sta scrivendo, perché praticamente non funziona con il List Guys, Però tranquilli che faccio finta di essere, io dico di essere magari a casa mia, oppure dico di essere in esplorazione, anzi dico, io sono in espl, così in esplorazione, Duniziani, ma c'è Fede che fa cosa stai... Ma cosa dici? Ma c'è, veramente, ma Gabri, ma c'è, proprio, cosa stai dicendo? Ma è fuori di testa? Cioè, in che senso? Cioè, spiegaci un attimo, perché magari, non lo so, magari, forse intende che sta facendo, non lo so, tipo questa cosa qua, eh? Questa cosa qua, bl 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 bl, Gabrile solo, dammi tutto, vabbè, insomma, basta, se no poi dopo qua YouTube ci chiude il video Evitiamo, per l'amor del cielo, di far chiudere, di farci chiudere il canale direttamente, perché se no, porca misera, poi Duniziani va alla fine Si è avvicinata e fa cose strane Ho capito, ma scusate, ma per che me lo scrivi in chat? Cioè, piuttosto, vabbè, ok Ah, strano No, lo so, facciamo finta, non lo so, cerchiamo di dissuaderlo, no, di dire, ma che cosa sta dicendo questo qua, cioè, sembra fuori Intanto continuiamo a dargli fastidio, ma tipo troppo dobbiamo dargli fastidio, perché adesso dobbiamo fargli, eh, dobbiamo tipo farlo insospettire, no, Duniziani Dobbiamo fargli dire, oh, porca misera, eh, ha fatto pure una task, serious, eh, vabbè, sarà una cosa del, del, vabbè, che caspita ne so Io, io dell'ultima versione di Minecraft non ne sono affatto esperto, purtroppo, però, porca misera, io non sto riuscendo a colpirlo, Duniziani Non sto riuscendo a colpirlo, ma porca di quella miseria Oh mio Dio, no, Fede, cosa hai fatto, Fede, in casa di Gabri Cioè, cosa fa? Dà fastidio? Cioè, veramente, Gabri, che cosa sta facendo? Vuoi che forse banni questa Fede? Cioè, veramente, non ne ho idea In teoria, lui, potrebbe darsi anche che arrivi qua su TS, perché io ce l'ho qua in parte, ma non so quando, non so, mi sta allagando casa Allora, Fede, come, come ti permetti, eh, questa Fede che, veramente, non, non la smette più di dare fastidio al povero Gabri, eh, tp, Gabri, nels06 No, tp, che brutto schifoso, che hai detto a Duniz, no, no, nels Dimmi, Gabri, ma c'è Fede che fa cose strane, come ti ho scritto in chat Ma che cosa c'è, in che senso? Adesso mi sta spadando, ma la testa è al contrario, cosa sta facendo? Ma com'è la stessa al contrario? Ma che cosa stai dicendo? Ma Gabri ma Scusami eh in che senso? Gabri Gabri va tutto bene? Sì ma la testa al contrario Ma no non è possibile Che abbia la testa al contrario Eh veramente la testa al contrario Mi stava dando una Badata Gabri io veramente non so cosa Devo dire ma devo non lo so Devo chicarla Allora ma fede Cioè veramente Scusa cosa sta facendo adesso? Mi sta dando le spadale La mia coltivazione Ma cosa stai facendo Ma Gabri ma è fuori Cosa c'è impazzita Si è tolta la mia coltivazione Gabri 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 Non mi ha appena scritto su whatsapp ma sembra impazzita Cioè ha Ha appena detto che vuole Esploderti casa No ma come? Ma perché? Sì Io non sto scherzando Cioè ha detto che vuole Farti esplodere tutto quanto Cioè Ma perché vuole fare questo? Ma non ne ho idea Io veramente non Non so come mai Possa succedere una cosa del genere Ma secondo me lei È un po' impazzita Impazzita perché probabilmente Tu prima Perché tu prima Io avevi detto quella cosa Che non dovevi dire no? E quindi adesso Secondo me Si è un po' Innervosita no? Ah ecco Eh sì 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 Cosa sta facendo ora? Ora è ferma È ferma? Si sta iniziando No ha messo una TNT Ha messo una TNT Ma come? No stai scherzando No ma non può fare una cosa del genere Ma dai Ma siamo sul mondo vanilla Cioè Stai scherzando? Ma dove se ne prende? Poi non le aveva No ha messo una TNT No 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 ma com'è No no dai Non è possibile No 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 Cioè Ma c'è Cosa Scusa Gabri Cosa sta facendo? Ha messo una TNT E ti ha fatto esplodere casa? Sotto casa Dove c'è la mia coltivazione Anche un po' dentro casa Perché sotto casa C'è la coltivazione no? E praticamente È esploso Il pavimento Ma Gabri Non è possibile Cioè nel senso Eh lo so Ma secondo me Fede è proprio impazzita Anche perché adesso Mi sta scrivendo Ho il culo rotto Ma cosa? Perché? Non lo so Mi sta scrivendo Che ha tutte Le foglie Fra le Oh mio Dio Non si può dire Cosa? Dunisiani Porca misera Ha scritto una cosa Veramente terribile Cioè Una cosa veramente terribile Che non si può minimamente dire Qua su YouTube Eh lo so Eh Tu lo leggi il mio Whatsapp? No perché non puoi leggerlo Come fai a leggerlo? No ma dico che Cosa? 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 Delle cose che non si possono dire Eh ah eh Però poi Ben immaginare Puoi vero? Eh lo so Immagino Immagino Eh Ma poi a volte Ha la testa al contrario Ma è tutta buggata Ma come ha la testa al contrario? Guarda che secondo me si vuole venditare No l'altro TNT Ma come? Ma come? Ma cosa? Ma ha dato fuoco al mio fiore? Beh secondo me non è normale comunque Eh lo so Secondo me sta completamente impazzendo È Fable Ma perché fa così? Ma cosa sta facendo? Non ne ho idea Gabri ma cosa sta facendo adesso? Dimmi un po' Ma adesso sta tipo ballando Stava ballando Ah e beh Non so come mai Secondo me Ma cosa? Cosa sta facendo? Gabri perché? Dimmi un po' Che sta facendo Perché io non sto bene Eh sta facendo cose Che non si possono dire Oh mio Dio ma davvero Ma io sono qua con i denisiani Che sto esplorando questa caverna super oscura Ma dove siete a esplorare? È in caverna oscura ho detto Ah capisco Però appena detto non so Eh non avevo sentito Eh non so Ma dove siete a esplorare in una caverna oscura? Brutto imbecille Eh mamma mia Cosa 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 Come va? Cosa sta facendo adesso? Ma sta dando fuoco a tutto Cosa sta facendo? No dai è impossibile Gabri E vabbè comunque adesso dobbiamo continuare con Con i denisiani qua Cioè volevo dire sì Insomma con la caverna no? Quindi ci sentiamo Ci sentiamo Va bene va bene Vado ciao 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 Dunisiani se ne è uscito Se ne è uscito No ma c'è Questo scherzo è il più bello Che io abbia mai fatto In tutta la mia vita Da Da dunisianico Porca miseria Adesso gli ispro da casa Tutta Tutta quanta Tutta quanta Ma tanto tranquilli Che poi c'è il rollback Non vi preoccupate Perché tanto Questi scherzi Cioè nel senso Chiaramente Non vanno a buon fine Perché tanto c'è il rollback no? Beh no Porca miseria Questo qua fa schifo Fa schifo Perché continua Certo che Secondo me è un po' Eh aiuto 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 Ehi niente Mi sa che gli ha rotto casa Dunisiani mi dispiace molto Per ciò che sta succedendo qua Gabri Cioè veramente A me sta Dennis Sì Gabri Dimmi un po' Perché mi è uscito fuori Che mi hai ammazzato te Ma quando? È ora No è Non hai visto la chat Ah ma ho capito Perché avevo inserto Quel nuovo plugin Te ne avevo già parlato E praticamente Quello sta dando un po' Di problemi Sì Capisco E praticamente Stava un po' Scambiando i nomi No? Però vede mi ha ammazzato Ma come ti ha ammazzato? Non so dove è la mia roba Ma come scusa? Ma dai Ma ha fatto esplodere casa Vabbè dai scherzo Sono stato io No Come? No 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 Sì Stai schifo No vabbè ma io Cioè io sono completamente Scioccato Cioè Ma la mia roba Vabbè tranquillo Adesso te la ridò Tra me non ti prego Guarda adesso Slash Com'è che si faceva Rollback R10 No dai Facciamo 20 Time Non so quanti 10 minuti 10 minuti Dai così almeno Guarda come si è Riprisinato tutto quanto Non ti devi proprio preoccupare Tu Gabri di queste cose Perché il tuo Dune Però mi è morto il cavallo Il cavallo Questo può essere un piccolo problema Dopotutto Fede si ripagherà con te Sì Assolutamente Perché Fede fa veramente schifo Qua ci sono dei Oggetti che non voglio sapere No scherzo Fede Ma la mia roba dov'è? No Fede Dov'è la mia Beh Insomma Non c'è Come tu Come no Beh Se la vedi Come no Vieni qua sotto Qua Magari è qua Può assolutamente essere Caro Gabri Oppure qua per esempio Per dire Ah qua ecco Qualcosina c'è qua Qualcosina Quindi Ma il tuo cavallo è qua sotto Comunque Ma come? Non so perché Sta qua sotto Gabri Cioè Ah ma queste qua sono le cose esplose Ma Ah è niente È la mia roba dov'è? Ma quali cose ci sono? No ma La mia armatura La mia spada Piccone Ascia Cerca bene che è lì Intanto finiamo il video Allora Non trovo Troverai troverai Come faccio ora? Eh piangi Eh piangi No Abbiamo fatto questo bellissimo scherzo a Gabri Dai che schifo È stato molto bello farglielo Gabri Gabri Molto divertente Devo dire Eh quindi Niente Lasciate like se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Iscrivete Fai altri scherzi ai tuoi amici Se volete vedere altri scherzi No please Sì 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 A tutti A tutti A tutti Potresti essere tu Come potrebbe essere qualcun altro Caro Gabri Non ti devi proprio preoccupare E noi Qui di Veneziani Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao